Unesimo video senza significato, siamo qui questa sera, numero di dicembre, che non mi ricordo, e comunque è vicino alla fine dell'anno. Siamo qui con Flyer Tuborg e il ciao, ovviamente lo tirerò fuori in questa giornata in cui ci sono zero gradi, ci sono zero gradi e porterò il bestia a fare un giro nella foresta di Bergamo. Allora praticamente l'idea del video è tirare fuori il ciao, mettergli dentro un goccio di miscela per arrivare a trovare il Fafa. Fafa, grande amico, che ha finito la sua quarantena prolungata. Ma sì, va bene anche se è poco meno, figa, inquiniamo di meno. Venga a fare, urco Dio, venga a fare 4 liter, 4 liter di benzina, questa che è la miscela per 4 liter. Ha salito dalle paranoie, comunque ho preso la decisione, ma gli ho preso la decisione di, urco giù da te, di miscelare esattamente la benza prima qua, poi ditemi voi, se mi segui e fai miscela, dimmi tu cosa fai. Comunque io sono fuori dal giro da vent'anni, ciazzo fratello, se becco d'oretto. Ma te sto qua, ho già rotto il cazzo, te lo giuro. Vediamo. Come nei film. Cade? No. Sì, mezzi elaborati, sì. Pronti per la tempesta, sì. 41 allora, sì. La bestia è tornata. Meccanico. Cos'è la situa, praticamente, avevamo una passione. Negli anni si è spenta. Queste sono le scuse per farsi un giro ogni tanto, come oggi, in cui praticamente spezziamo la nostra monotonia che ormai ci ha incatenato da diversi anni e rendiamo speciale, appunto grazie alla sua rarità, questi momenti. Voglio dire, è il mitico ciao di mia mamma che sarà un 50cc spompato, ma vi dico che il cilindro è su dal 70, scusa, dagli anni 80. Io caro, non l'ho nemmeno ancora visto sto cilindro come è messo, secondo me c'è dentro le ragnatele, infatti te non va un cazzo. Però comunque ci facciamo un giro, non è che andiamo a fare i matti. Però appunto per tenere accesa un briciolo di quella vecchia passione che avevamo ci facciamo un giretto, ma proprio ti dico è 20 minuti, mezz'oretta di strada totale. 40 minuti e poi riportiamo i mezzi a posto, niente. Grandi ragazzi! No, siamo su YouTube. Te, grande figa che sei venuto, abbiamo deciso di fare questa giornata del quarto. Un po' di vento di strada. Eh sì, sono qua gli attrezzi di robbia. Te dico la verità, brate, è lì. Nemmeno io c'ho voglia di fare questi sbatti, però... Te una volta ogni tanto una cazzata. Vabbè, f***a, f***a, ma sì, dai, facciamo. Ma proprio una cazzata, dai. Bella robbia! Prima una birra allora. Grazie. Vorrei dirti. Vorrei dirti, man, grande pettock. Oh? Cosa? Cosa? Ecco il goddamn robbietto! Uuuuuh! Mi è uscita male. Quanto è? Quanto è? Ah, ok. Uuuh, oddio, guarda! No, è uscito a schimare, non è uscito il vortice. Però va bene, va bene. Cinque secondi finito. Sì, non ci credo. È partito! Siamo partiti! Ma come al solito non filmerò un cazzo. Perchè noi ce la godiamo. Ci godiamo il giro. Sì, non ci credo. Sì, non ci credo. Guarda lì! Guarda lì! Yeah! È dura, è dura! Allora, ragazzi. Allora, praticamente siamo nella prima pausa, primo checkpoint con il robbietto. Guardate che spettacolo. Teda, quanto non facciamo un giro in moto? Vabbè, dall'ultimo video. Vabbè, dall'ultimo video. Però sì, ci voglio dire una cosa, praticamente... Non mi ricordo cosa volevo dire. Ah sì, che se non filmiamo altre parti di questo vlog, se non spezzoni a caso, è perché po' ta. Te, noi siamo veri motociclisti nel cuore. E i viaggi ce li godiamo. Servirebbe la GoPro, appunto. Bello vecchio! E si scende al minimo, a zero gradi con il robbietto. Ma la vedo bella, a te. Tanto io ho i pedali. E si scende al minimo, a te. E fa il figo con il 70. E viaggio il 30. Ho l'auto final. Autopilota! Autopilota! Inoltre! Autopilota! Autopilota! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono classe de ferro.